È una camminata di solidarietà che abbiamo organizzato per sostenere l'associazione Percorso Donna e per presentare che sarà lo spin-off di un progetto del Festival Incontri che sarà a Pesaro dall'8 al 12 di maggio. Noi come Lions Class non possiamo che appoggiare il progetto di Percorso Donna che è da sempre nato per educare le persone contro la violenza di genere. Ancora ad oggi i dati sui femminicidi sono ancora agghiaccianti. Noi ci impegniamo, il nostro impegno sarà per sempre per far sì che questi dati un giorno possano arrivare a zero. L'evento sarà, ci vediamo domenica alle 10 alla Palla di Pomodoro in Piazzale della Libertà. Ci saranno due gruppi, si partirà verso il Lungomare e verso Fano con suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo, un po' più blando, arriverà fino più o meno a Bagni Gelsi per poi tornare alla Palla di Pomodoro. Il secondo gruppo, per i più sportivi, arriverà fino a Bagni Itaca più o meno per poi tornare indietro. Ci sarà un banchetto dove verranno distribuiti dei gadget e delle sacche a ricordo di questa iniziativa con un'offerta minima di 5 euro e l'intero ricavato di questa manifestazione verrà devoluto a favore dell'Associazione Percorso Donna.